Allora Cochi, abbiamo visto i contenuti speciali del suo documentario, io le chiedo subito perché si è occupato nuovamente del mostro di Firenze di questo delitto di scoperti a 30 anni? Io 5 anni fa feci un documentario generico sul mostro di Firenze che raccontava tutto l'arco temporale degli omicidi, le indagini e i processi, questo perché l'ultimo delitto? Innanzitutto a 30 anni di distanza perché siamo nel 2015 e poi perché è il delitto nel quale sono rimaste più ombre, nel senso che comunque c'era un qualcosa che poteva essere sfuggito ed era la questione del giorno di questo omicidio. Nel capo di imputazione si legge la domenica 8 settembre, ma già all'epoca questa data era una data molto discussa, era discussa dai medici legali, era discussa dagli inquirenti. Io ho un po' ripercorso questo ultimo omicidio raccontandolo e dando il focus appunto sul giorno dell'omicidio e ho sottoposto appunto, innanzitutto sono andato a sentire le persone che all'epoca avevano un ruolo, cioè il medico legale dell'epoca, uno dei medici legali dell'epoca e l'investigatore dell'epoca, il capo della SAM. Ricordiamo la SAM, la squadra antimostro. E quindi non persone che poi si sono succedute nelle indagini, sono andata direttamente a sentire le persone che hanno vissuto quell'omicidio o quella catena di omicidi. E poi ho sottoposto comunque le perizie che vennero fatte all'epoca e le fotografie dell'epoca a tre medici legali e due entomologi forensi che sono tutte persone che comunque lavorano nell'ambito e hanno, lavorano con polizia, carabinieri e hanno delle cattedre universitarie per cui persone di tutto rispetto. Quindi secondo la verità giudiziaria che ricordiamolo ha condannato Mario Vanni all'ergastolo, Giancarlo Lotti a 30 anni di carcere per 4 dei duplici omicidi su 8 commessi dalla stessa pistola, si basano queste accuse e anche le condanne sulle testimonianze di Giancarlo Lotti e di Fernando Pucci che dicono di aver visto Pietro Pacciani e Mario Vanni uccidere la coppia dei due francesi a Scopeti la sera di domenica 8 settembre 1985. Quindi retrodatando il giorno dell'omicidio che cosa cambia? Ma che cosa cambia? Cambia che se così fosse i due testimoni, perché poi le condanne si basano fondamentalmente sulla prova testimoniale e i due testimoni mi tirano e quindi diciamo si potrebbe prospettare sicuramente uno scenario diverso. Ecco, nella sua indagine, nella sua inchiesta, lei ha intervistato degli entomologi forensi, ecco ci può spiegare un po' com'è questa questione delle larve? Cioè, secondo loro, perché dovremmo retrodatare dalla domenica al sabato o addirittura qualcuno dice al venerdì? Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa che venne fatta all'epoca, nell'85, erano fatte due perizie e nel 1985 l'entomologia forense non era una pratica usata dai medici legali perché era sconosciuta. Venne introdotta dal professore Introna circa nel 1986 e piano piano ebbe una sua evoluzione scientifica. Dicevo che all'epoca vi fu l'equip di De Fazio, che era l'equip di Modena, cioè il consulente della procura, che indicava il sabato come data della morte, mentre il collegio medico fiorentino dava come data della morte la domenica. Ma al suo stesso interno, come mi ha testimoniato Marello, perché tutto ciò che le sto dicendo a me mi viene riportato automaticamente, non ho fatto altro che riportare quello che loro mi dicono. All'interno del collegio medico c'erano delle divergenze sulla data, c'era chi diceva la domenica e chi diceva il sabato, come appunto avete visto nel reportage. Per cui già nell'85 c'era questo problema. Successivamente Mario Spezzi, che è un giornalista molto preparato sul caso e chiese una perizia al professore Introna, colui che ho nominato prima, cioè colui che, ne parla anche il professor Marello, ha studiato e portato dall'America in Italia un po' quella che è stata l'entomologia forense, la scienza dell'entomologia forense. Introna cosa dice? Introna dice che la morte non può essere collocata oltre il sabato sera. fa questa perizia molto netta, questo nel 2002. Questa notizia esce su Rai 3. Viene fatto un processo, una richiesta da parte dell'avvocato Filastò e alla rivisitazione del processo di condanna. Ricordiamo Filastò, l'avvocato di Mario Vanni. Per cui viene chiesta appunto una rettifica, adesso mi sfugge il termine, ma non viene accolta diciamo. Adesso recentemente io ho intervistato e ho chiesto delle valutazioni a tre medici legali e due entomologi forenzi, tutti i professionisti con un bel curriculum che mi dicono la stessa cosa che disse Introna e che disse De Fazio. Per cui da una parte abbiamo, è vero sì, tre medici legali nel collegio medico fiorentino che fanno una perizia attribuendo alla domenica il delitto, ma dall'altra ne abbiamo altri sette, otto, dieci che dicono il sabato. Per cui io ho semplicemente raccolto e sottopongo questo materiale e queste interviste, non per mia opinione personale, ma per quello che è. Ecco, non c'è una verità, una pista, una teoria di Paolo Cochi. Personale no, posso avere un'idea mia personale, ma vale quello che vale, non è che ho una capacità superiore agli inquirenti ritengo di avere, però io penso che siano significative queste valutazioni fatte da professionisti e da chi all'epoca ha indagato. Poi ci sono altri elementi che tenderebbero a confermare che forse le testimonianze raccolte all'epoca sui due francesi, Nadine Moriot e Jean-Michel Kravitchvili, forse qualcuno si è sbagliato perché se ci può raccontare gli scontrini, il fatto che hanno ritrovato degli scontrini con delle date particolari, sul fatto che qualcuno ha detto di aver incontrato Nadine Moriot la domenica, però ha visto una donna con i capelli corti. Ne parliamo a ricostruire. Ecco, allora ne parla molto bene nel reportage l'avvocato delle vittime, Vieri Adriani, il quale spiega che comunque il riconoscimento della domenica mattina non è affatto il riconoscimento certo, perché all'epoca dei fatti vi fu un verbale da parte di questi ristoratori che indicarono una ragazza dai capelli corti, attenzione, una ragazza non tutti e due. Poi nel corso degli anni, dopo 12 anni nei processi, chiaramente i ricordi sfumano, si fanno più, hanno cambiato versione, ma all'epoca dei fatti la verbalizzazione parla di una ragazza con i capelli corti. Mentre in realtà Anna di Morio aveva capelli lunghi, nell'immaginario di tutti forse aveva capelli corti perché venne pubblicata dai giornali la foto della sua patente o carta d'identità dove aveva... Non c'è nessun testimone che vide i francesi in vita oltre il venerdì sera, ossia ce n'è uno che si chiama Fantoni Marcello che però a distanza di 12 anni, cioè nel 97 al processo, ricorda, però non è sicuro, però ricorda che forse la domenica sera li aveva serviti al tavolo. Questo è sui verbali processuali, chiunque li può andare a vedere su internet, non è che stiamo dicendo delle cose segrete. Paolo Cocchi prima parlava dell'Avvocato Nino Filastò, il difensore di Mario Vanni nei processi, l'Avvocato Filastò è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Avvocato, mi sente? La sento, sì sì. Bene, grazie di essere intervenuto. Io le chiedo subito, lei è stato intervistato da Paolo Cocchi, ha visto il documentario, pensa che dopo tanti anni si cominci a fare una vera luce sul delitto di Scopeti grazie al lavoro di Cocchi? Beh, ho l'impressione che siamo un po' tardi per fare una luce, però qualche cosa è venuto fuori, per esempio venuto fuori che la data del delitto non è quella che è apparsa ufficialmente, è da anticipare il delitto ad almeno di 24 ore. E quindi tutto questo significa che tutte le dichiarazioni del Paolo Solotti sono a buttar via, quindi tutto è cancellato sulla base di questa stessa. Ecco, senta Avvocato, noi riparliamo qui, siamo a TV Prato, di questi casi che ormai l'ultimo ha più di 30 anni, nell'immaginario della gente il mostro è Pietro Pacciani, è Mario Vanni, compagni di merende, ci dice perché secondo lei, nonostante la verità giudiziaria, cioè che Vanni è stato condannato all'ergastolo e lotti a 30 anni, perché non sono stati compagni di merende? Ma perché prima di tutto sono diritti che esprimono una persona singola, con la sua psicotologia, anzi psicosi grave, che non può essere condivisa a più persone, non esiste un gruppo di marti, insomma, intendiamoci, non può sussistere una cosa del genere che sia in qualche modo condivisa da un certo numero di persone, proprio perché questi sono le poveri vecchietti, insomma, la gente è assolutamente incapace persino di concepire quei diritti. Avvocato, senta, le chiedo un'ultima cosa, secondo lei si arriverà mai a trovare la soluzione, a venirne a capo, a individuare il mostro di Firenze? No, se non confessa a lui. Io ho sempre sperato che lui a un certo punto, che questa persona a un certo punto, magari alla fine della sua vita, dicesse guardate che non sono stato io. Se no non ne verremo mai a capo. Io la ringrazio, Avvocato, grazie per essere intervenuto. Se pare, buonasera. Ecco, riprendiamo con Paolo Cochi, l'Avvocato Filastò, difeso Vanni, ha sempre detto che Vanni era innocente, ha spiegato di nuovo i motivi, lei che idea si è fatto? Io personalmente? Sì. Personalmente credo che sia una sola persona, che sia stata una sola persona, e che comunque non sono delitti di gruppo, anche considerando, da un punto di vista criminologico, almeno da quello che poi ho ricavato dalle interviste a tutti i criminologi, determinati delitti nell'arco di 17 anni, in letteratura non si ritrovano casi del genere, di gruppi di persone che per 17 anni si associano e fanno delitti a sfondo sessuale. Quindi l'idea anche di un terzo livello, comunque di mandanti occulti, di una pista esoterica, non la convince? No, perché poi chi mostro manderebbe un Mario Vanni, che era ubriaco dalla mattina alle 7, a fare quelle cose, insomma, c'è anche un discorso di buon senso comune, ma questa è una mia opinione. Se ci fosse stata la prova del DNA ai tempi, nell'85, ma anche nei delitti precedenti, a quei tempi non si usava, probabilmente parleremo di una storia diversa? Probabilmente sì, perché il DNA, la prova scientifica, è sicuramente un ottimo supporto all'investigazione e recentemente ha risolto casi importanti, molto importanti. Analogie con il mostro di Firenze nel mondo ce ne stanno tante, da Jack the Ripper a tanti altri. In Italia forse è stato veramente un caso unico. Lei è stato anche nei luoghi del mostro di Firenze per fare il suo primo documentario, li ha visti tutti, ha fatto delle ricostruzioni cinematografiche, secondo lei il modus operandi qual era? Sceglieva le vittime, le conosceva? Oppure era il luogo, il punto individuato, dove colpire? Quindi qualsiasi coppia si trovasse in quel momento, poi diveniva... Eh, potrebbe essere anche una tecnica mista, nel senso che alcune le conosceva, alcune le trovava. Chissà quante volte ha studiato la situazione, magari ha trovato più automobili, per cui ha dovuto rinunciare a compiere l'omicidio. Lei ha parlato di analogie con altri serial killer, sta facendo anche il suo nuovo lavoro, è proprio su Jack lo squartatore, tra poco sarà a Londra per girare un documentario, si è occupato anche di altri delitti seriali nella storia. Il caso del mostro di Firenze è unico, oppure ci sono analogie con altri casi? No, assolutamente sì, e per la durata, parlo dell'arco temporale dei delitti, poi per non parlare delle indagini e dei processi, per cui, diciamo, e per la durata, e comunque la caratteristica è quella di l'aggressione alle coppiette, sempre e solo coppiette, con sempre la stessa arma, lo stesso munizionamento e lo stesso modus operandi. Questo è tipico, da quello che ho imparato dai criminologi, è tipico di un killer seriale, è non frutto di un gruppo di persone. Poi c'è l'overkilling, quindi ci sono delle tipologie di assassini che sono i last murder, come avete visto nel reportage, che hanno determinate caratteristiche. Ecco, qui in Toscana in quegli anni, soprattutto in provincia di Firenze, tutti più o meno sono stati toccati da questi delitti, perché avevano conosciuto le vittime, un parente lavorava con uno dei due ragazzi uccisi, anche la nostra televisione è rimasta coinvolta, perché Susanna Cambi, una delle ragazze uccise nel 1981, il 22 ottobre, lavorava come centralinista per alcune televendite, girate proprio qui a TV Prato. Lei invece, Romano, com'è che si è interessato a questo caso? Com'è che è diventato un mostrologo? Guardi che io ero molto giovane, ero tipo 15-16 anni, la paura c'era anche a Roma, e quindi è rimasto nell'inconscio collettivo questa paura. Poi seguì il processo Pacciani, che fu il primo processo in diretta televisiva nazionale nel 1994, mi sembra, e per cui è stato il caso criminale per eccellenza della cronaca nera degli ultimi 50 anni, il mostro di Firenze. Possiamo dire che il mostro ha generato più mostri e anche più vittime? Assolutamente sì, se andiamo a guardare le indagini, i processi, che è stato assolto, che è stato condannato, comunque parliamo di un lasso temporale di altri 20 anni, se non di più. Chissà se riusciremo mai a arrivare a capo di questo enigma, di questa scia di sangue, che davvero ha terrorizzato queste campagne toscane per così tanti anni. Io ringrazio Paolo Cochi, grazie per essere intervenuto e per averci fatto vedere in esclusiva i contenuti speciali del suo documentario, ricordiamo il titolo Scopeti, l'ultimo delitto del mostro. Io ringrazio anche voi per averci seguito e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.